e ben a tutti ragazzi e ragazzi sono il vostro caro mastro king e benvenuto in questo nuovissimo video allora come vedete siamo a tornare qui su minecraft stone block io un po ripreso quelle a fare i polli perché per semplice motivo perché voglio arrivare a quello dei diamanti perché quella dimensione ora vi faccio vedere per fare l'infinity catalyst servono alcuni strumenti particolari che ora vi farò vedere che sono questi qui che mettendo nelle neutroni un complesso un tot di blocchi di iron faremo l'iron singolare però il problema è un altro è il numero di blocchi vanno messi ad esempio io qui di oro ne ho messo 108 blocchi su 11400 blocchi e quindi devo arrivare a farne molti molti di più e quindi per poter rifare la cosa migliore che in questo momento posso permettermi di fare è quella di avvire perché ci ho coperto di un inner quartz che prenderò molto molto volentieri e dicevo dovrò fare conviene fare le polli semplicemente e quindi diciamo invece aspettare altri altro tempo per fare altri video approfitto per fare registrare qui e quanto contare a registrare farne di altre allora sicuramente ok mi manca la sabbia però non è un problema il fatto che mi manca la sabbia allora diciamo che per il momento uno stack di manzi di piazzo direttamente qui che tanto non è che mica da tutto questo problema intanto sto continuando a farmare il più possibile ok sono rimasti giusto giusto un paio di pezzi carbone però il problema non si diciamo che non si pone per perché sto farmando talmente tanto che sto abbastanza tranquillo anche se devo ammettere che almeno quanto riguarda il carbone mi piacerebbe farmarne un pochino pochino di più ok un'altra 10 10 ok quindi a te ti posso tranquillamente posare e intanto posso questo ok questo sta ancora facendovi allora intanto approfitto per mangiare ok tutto riservi finito giusto esattamente da qui ti facendolo mi dovrebbe dare la terra e poi dopo la terra finalmente la sabbia ok questo è 4 7 ok sicuramente sposterò questo e piazzerò i semi di qua allora qui intanto vedete sto farmando veramente veramente tanto i lapis e diamanti sono le cose che avrò più difficoltà ad ottenere per il semplice motivo che sono quelle più difficili per il momento ad ottenere almeno finché non avrò i diamanti ah ok direi tranquillamente di prendere questa gravella e di farci il un paio di blocchi che è sempre meglio medio ricomplessed ok quindi per il momento piazzerò qui almeno in questo modo continueranno a farmare il più possibile ok ho lo stack di terra tranquillamente e ora finalmente riuscirò ad ottenere la sabbia quindi diciamo non è che non ne ne servino quindi non ne bastano giusto 4 pezzi per fare la tnt ok e abbiamo completato la missione infatti ora intanto ritiriamo all'hutto chest Mi manca da fare La litosis generator Tanto a te ti piazzo qui Mi conviene fare in questo modo Allora Ah ok Per fare questo ho bisogno del Che non ho Quindi Allora allora Ne ho 9 si dovrebbero bastare In teoria Oppure Gli occhi intanto apriamo E mi da la glossolingotta Che poserò Per Qualunque sia tipo di Cosa Allora sicuramente Dovrò fare Un 5x5 Intanto approfitto a piazzare La varietà di luce Qua in zona Ok Eh guarda che ti senti eh Quindi non so quanto ti conviene Allora dicevo Posso tranquillamente Piazzare Oh Un creeper Non mi ricordo mai Dove cavolo sporano Tutti questi Questi mob Però Intanto Approfitto per Posare Quello che non ci serve Direi Quindi direi Tranquillamente Che potremmo Andare a far fuori Tranquillamente il Oh Ah ne avevo 9 Mirai ne servono 12 Quindi Non ho abbastanza A derriare Per farlo In teoria Ok Mi può uscire La loot bag Leggendaria Non so Se Gli Al mob Spawner Me ne siano Rimaste Qualcuna Leggendaria Sperando di si Ok Si Si Mi sono rimaste Un po' E L'unica cosa Che posso Sperare Che Me ne sbuchi Qualcuna Ok Uno Me ne mancano Due Ok C'è un cube Roba che non Mi serve Ok Quindi diciamo Che Sicuramente Una buona parte È roba che non serve Tanto queste Le Lascio Di qua Tranne le Cose di Diamante Che Sicuramente Mi serviranno In futuro Ok 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 Ah Cosa Di diamante Ah ok Perfetto La gente Comincia Comincia A cadere E E direi Tranquillamente Di cominciare A tornare Per Farmare Un po' Di diamanti Ricordo Ricordo che In questo momento Servono Servono Sempre Allora Quindi Per quanto riguarda Questa zona Questa zona Ok Quindi Mi è rimasto Mi sono rimasti Da dover Recuperare Gli ultimi Gli ultimi due Purtroppo Non ci sono Un vero Altri Modi Per Farmare Per Formare I end Cioè I end Quelli Per fare Il Ok Ragazzoli Ho ottenuto Gli ultimi Due Pezzi Di End Portal E direi Tranquillamente Di Avviare Il Nostro Modo Portale Per Semplice Motivo Di Far fuori Come ho detto Il Ok In teoria Ce la dovrei Fare Speriamo Tanto Sono Stiamo a metà Della 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 Batteria Quindi Dovrebbe Tranquillamente Bastare Anzi Forse Avanzare Pure Perché Devo Semplicemente Fare fuori Il Dragon Land E Tranquillamente Andare a Prendere I Chorus Fluid Non Non Penso Ne Ne Servano Chissà Quanti Però Degiamo Ne Prenderò Un po' Così Senza Dovrò Fare Avanti E Indietro Un Attimo Si Genera Il Mondo Ok Ok Quindi Posso Tranquillamente Far fuori Questo Ok Come Immaginavo Ah Ha fatto Letteralmente Ha fatto fuori Non me Non me Sinceramente Non me L'aspettavo E Si sta Sta laggando Minecraft Ottimo Quindi Sinceramente Ok Non so Dove posso Andare And No È Jetpack No Qui sicuro Non ce l'ho Nella speranza Ok Se non sa Caricare Sicuramente Sarà All'altra Parte E Sicuramente Prenderò Qualche Stack Di Cobblestone Che Essendo Il Blocco Che ho In maggiore Quantità Sicuramente Sarà Quello Che Utilizzerò Di Più Ok Ah è vero Posso Terrasportarmi Al Punto In cui Sono Morto Ok Ah ma io Sono morto Sopra Sperando Che Il Il Drago Non decida Di Cercare Di Farmi Fuori Proprio In questo Momento No 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 Ok In teoria Ora Come ora Dovrei Riuscire A Non farmi Più Far fuori Almeno Spero Allora Mi prendo giusto Un paio Di blocchi E Qualcosa Da mangiare Così almeno Recupero Quel Minimo Di Vita Ok Direi Tranquillamente Andare qui Per recuperare I Blocchi Ok E Ora Come ora Ok Mia Ok Ora Come ora Spero Che Non decida Di Di Venire Attaccarmi Anche se Come noto Sta Laggando Tantissimo Ok E Tornarò Ad attaccarmi Però Sembrerebbe Ok Devo Sbrigarmi A salire Eccolo Devo Mettermi Subio Il jetpack Dove Sta Ok Spara Di qua Così se Almeno Mi reattacca Posso Continuare A Volare Ok Allora Io Devo Mangiare Assolutamente Ok 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 Allora Ok Ora Come ora Il track Sta verso Il Centro No E Non Non Ho Un Arco Quindi Devo Usare Per Forza La Strada Ok Ok Intanto Guardiamo Dove Sto Ecco Quanto Sembra Sta Venendo Verso Questa Direzione Mi Io Tranquillamente Sono Rimorto In area Tra l'altro Quindi Quindi Sinceramente Non so Come Fare Perché Di jetpack Non ne ho Ancora Cioè Non ne ho Di altri Allora 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 Almeno Se No Un po' Lingotto Ok Ah E Seguramente Prenderò Un po' Di cibo Ok Ok Se Un'involta Il portale Smette di Funzionare Qualche Momento Vediamo Se Riesco In qualche Modo A D'andare Intanto Vado Qui Al posto Secondo Dove Sono Morto E Vediamo Qui Dove Mi ha Piazzato L'affarino Ok Sembrerebbe In alto Come lo posso Recuperare Sinceramente Non ne ho idea Però la cosa Che posso fare È sicuramente Andare A far fuori Qualche A far fuori Qualcuno Di questi Qui in alto Ok 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 ragazzone A quanto pare Sono Riuscito A Sopravvivere A Recuperare Tutta La Mia Roba Intanto Approfitto Per Vediamo Se Riesco A No 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 Non voglio Rimorire Di Nuovo Ok Ok Quanto pare Sono Riuscito A Salvarmi Ok Intanto Approfitto Per Far fuori Il I vari Diciamo No 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 Eccolo La Quanto Sembra Che Questo Dovrebbe Essere L'ultimo Ok Dove C'ho La Spada Ok Devo Solo Sperare Che Il Drago Decida Di Non Sotto Di Non Ammazzarmi E Di Andare Lì Verso Il Centro Così Lo Posso Fare Fuori Appunto Ok Quanto pare Ci sono Ben Riuscito Intanto Approfitto Per Raccogliere Un po' Di Esperienza Ok Per Dico Per Il Momento Il L'uovo Di Drago Non Mi Serve Ecco Ma Mi Servirà Andare Verso Di Qua Diciamo Che Finalmente Ce l'ho Fatta Ok Perché Mi Servono Le Corus Fruit Che Si Ottengono Solamente Dalle Corus Planta Ok Perché Devo Fare Vari Tipo Giri Blocche Ok Quanto Sembra Li ho Ottenuto Tutti I blocchi Mi Servivano E Quindi Me Ne Posso Tranquillamente Tornare A Casa Se Ci Riesco Ok Mi Ero Buggato Tanto Approfitto Per Mangiare Ok Volevano Uccidermi Ok La parte Finale Di Game Non è Che Mi Serviva Poi Di Tanto Ok Qui Era Finito Roba Che Innanzitutto Posso Tutta Roba Che Al momento Non Mi Serve Oppure Supermess Essence E Sicuramente Mi Serviranno Un Paio Di Stacca Di Charge All Ok E Li Piazzo Qualcuno Quelli Qua Nel Caso Ok Finalmente Ce l'abbiamo Fatta Tutto Questo Per Fare Un Generator Ovvero Questo Qui Ok Una Missione L'abbiamo Fatta Questo Lo posso Già Fare Sì Non So Come Si Fa Il Ghiaccio E Sì Ok Perfetto Quindi Posso Fare Pure Quest'altro Qui Di Generatore Il Che Mi Va Bene Dove Ho Il Ok 1 Fatta 2 Fatto Questo È Det Generator Non So Come Si Posso Fare Sì Lo Posso Fare Stiamo A 3 Manca Slime Generator Che Ho Qui Infine L'ultimo Non Una Fa Questi Non li Ho Che cosa Sono Magical Wood Ok Ok Eh si Però Dove Si piazza Nel Crafting Quello Normale Si può Ottenere Si possono Ottenere Ok XP Catus Emerald Ok No Mi manca Solamente Loot Però L'unica cosa Che posso Provare A fare È Esattamente Questa Ovvero Provarlo A fare A parte Ah si Questo L'ho Fatta E si Ah ecco Quindi serviva Semplicemente Un crafting Normale Non lì Ok Ok Lo restavi Eccoli qua Allora Vi posso Piazzare Tutti dentro Vediamo Se questo Posso Fare Cosa Mi manca Ah il pink Generator No Allora Vediamo Se Tanto Li posso Fare No Manca Sempre Qualcosa Pure Tu Il Magmatic Generator Ah Devo fare I blocchi Di Hai tu No Questo Buono Perché Sono Questo Si Devo mettere Quello Buono Allora 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 Vediamo Col Gold Cosa Posso Fare Allora Sicuramente Tre Non Mi Basteranno Ok Quindi Non Mi Servono Chissà Che Cosa Con Questa Lo Posso Far Fuori Ok Posso Fare No Non Lo Posso Fare Però Non So Se Questi Cocendoli Posso Ottenere Il Quello Che Mi Serve Quanto Riguarda Ok Si Perché Vi Posso Cuocere E la Cosa Mi va All'uso Di Russo Ok Si Vero Qualcosa Avevo Messo E Quindi Finalmente Il Magmatic Generatore Generator Posso Farlo Tu Sei Ok E Ti Posso Graffare No Direi Di Si Tranquillamente Ok Piano 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 Sembirebbe Riesco A fare Tutto Ok Ora Mi manca La redstone Che Sicuramente Mi metterò A fare Subito Ok Finalmente Ne faccio Giusto Un paio Anzi Tutti quelli Riesco A fare E La parte Sopra Posso Farla Finalmente La parte Sotto Invece Ok Mi manca Sempre Il Pink Generator Ok E Come La ottengo La ottengo La pink Dai Dalle Altre Dai O Dalle Dai Essenza Posso Farlo Ok Quindi Posso In qualche Modo Farmare No Ok Mi manca Quindi Ora Come ora Mi manca Solo Da farmare La pink Dai No Pink Di Fiori Fiori Penso Che Dubito Di Averne O Con le Uova Avendo Semplicemente Rosa Che Non Ho Quindi Come posso Ottenerla Semplicemente Dalla Bommial Nella Speranza Che Mi Droppi Qualcosa Di Utile Ok Ok Il Rosso Allora Il bianco Lo si Tiene Tranquillamente Dalla Ma è una Pecola Rosa Sì Però Mi Sarà Utile Solo Per La Lana Non Tanto Per Fare La Pink Dai Ok Un altro Rosso Non so Quanti Ne posso Ottenere Semplicemente Da Questo Spero Tu Eh Però Tu cosa sei Ah Cotton Seed Un altro Giallo Che Non Mi Servire Un altro Ok Un altro Rosso Siamo a 5 Rimasta L'ultimo Fiore Rosso Da Dover Prendere Questo Solamente Per Di Generator Ok Sembrerebbe Qua Eccolo Meno male L'ultimo Dov'è Di qua Ok A te Ok Semplicemente In questo Modo Ok Ne basta Un utile Poi Me le avrebbe Date Due Non so A cosa Mi serviranno Le Red Orchid Sinceramente Al momento Non è che Mi interessa Più di tanto E Sicuro Mi servirà Di qua L'iron Giusto 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 Due Pezzi Così Approfitto Per Prendere L'ultimo In senso Per Prendere Il Pezzo Di Rana Che Mi servirà Per fare L'ultimo Generator Che Mi manca Uno solo Ma Dove Pezzo Ok Anche se Effettivamente Uno solo Me ne bastava Ok E finalmente Posso fare Il Non mi dire Che Eh Epic Bull No Ok Ok E L'Energetic Pink Bull Che Ho Ok Anche L'ultimo Generatore È Fatto Io Prima Di Andare Avanti Volevo Finire Un attimo Il volo Le Cest Ecco Non mi ha Dato La La Missione Quello sotto Mi manca Se Ok L'ultima Ok L'ultima Non me l'ha Data Non so Non so Il motivo Però Mi serve Mi serve Fare Di nuovo Il Magica Wool Allora Come si Acevi Con L'oro Ok Ok 1 2 3 4 Me ne serviranno Quindi Ultime 2 Ehm Non mi ricordo Ok Quindi Per esempio Interfarne Due Non è Che Me ne servirà Così tanto Ah Ok Allora 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 Si Basta E Avanza Il Prendo giusto Qualche Blocco Di Legno Qualche Log Per Poter Fare Ultime Bookshelf Che Mi serviranno Per Questo Ok Te li posso Busare Te pure Te pure Te pure Ok Ed è Rimasto L'ultimo Diciamo L'ultimo Generator Da Fare Ok Questo Non mi servirà E neanche Questo Penso A te Li voglio Piazzare Per Vedere Come Funzioni Non Ne ho Idea Quindi Lo vedrò Off Camera Allora Allora Quindi Prossimo Passo Saranno I vari Livelli Di Solar Panel Appunto Non ho Una Beniamata Fava Qui ci Verrà L'alloy Smelter Quindi Direi di Approfittare Di Craftare Quanta Più Roba Possibile Per Per il Semplici Motivo Che Ok Intanto Sembrerebbe Tu Hai Finito Un altro Stack Di Iron Si Ok Vediamo Ok Il Niche Solo 5 Bloc Bloc Che Me Ok Lead Alluminium Non mi Servirà Il Tine Non mi Non mi Odiamo Se Mi Ricordo Mare Si Ok Ok Quanto Riguardo Lo Smium Oppure Stessa Cosa E Non Ricordo Mai Ok Quanto Pare Pure Col Copper Staremo Opposto E Anche Quanto Riguarda Il Silver Che Farò Riuscirò A fare Solo Un blocco Silver Ok Gold Chissà Quanto Questa Tin Ok Copper Diamond Che Non Ho No Di Quanto Guarda Ok Lead 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 Solo Lead Vero Ok E Qui Sotto No Questo L'avis Ok Diciamo Che Per quanto Mi Riguarda Devo Devo Assolutamente Prendere Tutte le cose Qui Non Servono Che Stiano Dentro Ok Non ti devo Prendere Ok Diciamo che Per questo Video È Tutto Spero Spero che Il video Vi sia Piaciuto Se così è stato Mi raccomando Lasciate un bel Mi piace Di iscrivervi al canale E di seguirmi Tutte le Insta Facebook Comunque Io vi saluto Ciao A tutti Voi